tavola 35 rappresenteremo in assonometria cavaliera tre gradini allora come sempre come potete vedere metteremo squadreremo la nostra tavola in verticale così divisa a metà nella parte superiore ci rappresenteremo i tre gradini in proiezione ortogonale nella parte inferiore in assonometria allora la rappresentazione delle gradini in proiezione ortogonale già l'abbiamo svolta precedentemente comunque riportiamo le misure i tre gradini avranno una pedata di due centimetri questa un'alzata di un centimetro la rampa diciamo così sarà larga 8 centimetri e sarà staccata di un centimetro sia dall'asse x che dall'asse y e poggia ovviamente sul piano orizzontale allora per per procedere la prima cosa che dovremo fare essendo una assonometria cavaliera quindi con gli assi inclinati di 30 e 60 gradi dovremo diciamo così rappresentare la pianta alla base della nostra assonometria quindi staccato dall'asse x e dall'asse y di un centimetro riporteremo esattamente la vista sul pio quindi la rampa larga 8 centimetri e le date di due centimetri l'una successivamente incomincieremo nel lato diciamo così frontale a tirare sulle altezze dei vari e dei vari gradini quindi nel primo punto avremo un'altezza di un centimetro nel secondo punto di due centimetri nel terzo punto di tre centimetri e così anche nell'ultimo perché chiaramente sarà al finale del gradino quindi poi riportiamo le varie alzate l'alzata essendo 1 primo gradino è 1 il secondo gradino sarà 1 per 2 1 per 3 e così via quindi possiamo tranquillamente anche diciamo così congiungere questi punti e disegnare il profilo della scala visto lateralmente a questo punto faremo la stessa cosa nella parte retrostante quindi tireremo su dei vari punti l'alzata di un centimetro due alzate di un centimetro quindi due centimetri tre alzate di un centimetro quindi tre centimetri avanti e dietro a questo punto possiamo unirle qui conviene nella parte frontale possiamo anche unire già direttamente con la con la mina f nella parte retrostante conviene che per adesso lo facciamo con la mina 2h perché poi dopo vedremo quali saranno le linee da ripassare e quali no andando ancora avanti possiamo quindi poi dopo unire chiaramente per disegnare tutta quanta il gradino nella sua larghezza i punti retrostanti con i punti antestanti sia alla fine di ogni alzata e alla fine di ogni petata a questo punto ripasseremo tutte le linee che sono sicuramente marcate che sono tutte le linee che vediamo frontalmente cioè queste qui sono tutti spigoli continui perché non sono nascosti da nessuna faccia e poi completeremo la nostra assonometria ripassando come piccoli tratteggiati quelli nascosti dalle facce retrostanti in questo modo abbiamo rappresentato tavola 35 questi tre gradini in assonometria cavaliera Michele